Musica Oggi qui a Foggia presso il Tribunale di Foggia e presso la Procura della Repubblica il Comune di Monte Sant'Angelo ha sottoscritto il protocollo d'intesa contro gli abusi edilizi nel territorio appunto comunale un importante tassello di contrasto alla illegalità diffusa come può essere quella appunto degli abusi edilizi dopo aver informatizzato tutto il processo e dopo aver sistemato l'azione degli uffici si passa adesso al contrasto sul territorio quindi un importante tassello che abbiamo aggiunto alla strategia in genere di contrasto alla criminalità nel territorio a queste forme diffuse appunto di illegalità Musica Il protocollo d'intesa nello specifico si riferisce a manufatti abusivi per i quali diciamo si è intervenuta una sentenza definitiva e si è stato disatteso l'ordine di demolizione parliamo di manufatti che sono destinati a residenza non abituale e sui quali appunto si innescherà questa importantissima sinergia tra due autorità pubbliche importanti la Procura e il Comune di Monte Sant'Angelo Siamo contenti come amministrazione del fatto che queste sinergie porteranno alla effettiva applicazione delle sentenze oltre che affermare in particolare la necessità del rispetto della legge Grazie a tutti